Buonasera a tutti, ci è da poco conclusa la partita tra Napoli e Roma. Partita finita sull'1-1. Napoli in vantaggio con rigore d'insigne, assegnato all'arbitro dopo aver rilisto il VAR. Pareggio a Sciaravi per la Roma al 91esimo. Partita che si conclude così dopo 8 minuti di recupero. Sinceramente la partita è stata sotto le mie aspettative. Mi aspetta una partita con più gol e che più azioni da gol. Nervosismo in campo. Secondo me con questo pareggio, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Napoli abbandona il sogno scudetto. Anche se bisognerà aspettare la prossima domenica, quando l'Inter e il Milan giocheranno rispettivamente contro Roma e Lazio. Partita importante anche per la zona europea. con la Roma che prende un punto e da vedere cosa farà stasera l'Atalanta. L'Atalanta che deve recuperare anche una partita. Napoli sinceramente deludente. Sono due partite che contro la Fiorentina ha sbagliato molti gol e poi è andato sotto e non è riuscito a recuperare. Stasera avendo visto, stando a casa, stando a Pasquetta, la partita. Io parlo della Laziale, ovviamente ho visto la partita, sono una versione sportiva, mi piace vedere il calcio. Il Napoli che è andato in vantaggio. Poi il problema del Napoli è non riuscire a mantenere il risultato. Tanto è vero che alla fine la Roma, con un corpo di destra di Pellegrini, ha rischiato anche di vincere la partita. Detto questo, buonasera a tutti. Ci vediamo ai prossimi video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e aggiungete la campanella in modo che non vi perdete nessun video. Mi raccomando, commentate in tanti. Buona serata a tutti, a dopo.